Ciao ragazzi, allora siamo pronti per partire per la nuova challenge domani mattina, primo giorno. Ricordatevi, fin dal mattino colazione equilibrata, aloe infuso e Formula 1. Concentratevi, focalizzatevi sull'apporto proteico fin dal mattino. Abbiamo questa ottima soluzione che è il Formula 1, i gusti che volete, con l'apporto eventualmente e il supporto di altre proteine, proteine remix piuttosto che proventi o strength. Focalizzatevi, dicevo, in questo periodo sull'apporto proteico corretto, il vostro apporto proteico fin dal mattino che vi supporterà proprio in questa challenge per bruciare più grassi. Se avete ancora dei dubbi sul vostro quantitativo, di cui abbiamo già anche un po' accennato martedì, contattateci, contattate i vostri coach in modo da partire subito subito bene. Non preoccupatevi se avremo una riduzione a livello di carboidrati. Abbiamo questa soluzione che è il Formula 1, che contiene già i carboidrati, così come anche i nostri proteici. Per cui state tranquilli che questi creeranno soltanto un calo a livello di calorie, che è quello che ci serve per andare a lavorare sul grasso in eccesso, ma non sentirete i cali a livello né energetico né di fame. Quindi tranquilli. Focalizzatevi sul nostro bruciagrassi, quindi il drink che abbiamo detto è dato dall'infuso, due cucchiaini di caffè, da caffè scusate, uno, un misurino di skin collagene e una bustina di hydrate. È buonissimo, si consuma veramente in modo veloce, così avete la possibilità anche di sfruttare il vecchio drink pancia piatta, che va ancora sempre benissimo e potete alternare i due drink, magari uno alla mattina e l'altro il pomeriggio. Arrivare così al vostro fabbisogno giornaliero di acqua, che è fondamentale e abbiamo visto con la dietista che è alla base della piramide alimentare. E poi assolutamente per chi vuole fare un lavoro più strong, arrivare alla fine di questi 15 giorni della challenge, che è una challenge più breve ma più intensa, e avere subito i suoi risultati, sostituiamo un pasto. Sostituiamo un pasto con un gusto che ci piace, ne abbiamo veramente tantissimi a nostra scelta. Io consiglio la cena, così la sera poi andiamo a dormire anche più rilassati, non abbiamo pensieri, non dobbiamo fare altre attività e l'apporto proteico del Formula 1 la sera ci aiuterà a andare sicuramente a dormire più rilassati, quindi ci aiuterà anche nel sonno. Bene, che dire, attiveremo l'attività fisica a partire da martedì, quindi pronti e carichi anche per l'attività fisica specifica brucia grassi, martedì sarà un'attività di 12 minuti, poi avremo l'attività giovedì e sabato sempre alle 9, ma per chi non può essere in diretta, tranquilli, potete andare sul canale di Pillole Sportive, lo conoscete già, e per chi non conosce può chiedercelo, io potrei ricordarmi di mettermelo sicuramente martedì o di mettervi il video, la registrazione su WhatsApp oppure su Instagram. Vi saluto e vi auguro una buona partenza, tutti focalizzati mi raccomando, partire da domani si parte e ve ne vedremo delle belle, sicuramente tutti alla fine con dei risultati. Buon percorso, ciao!